Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Ancona ha scoperto una piantagione di cannabis all'interno di un'azienda agricola nelle campagne di Ostra. Le piante provenivano da un vivaio situato in Abruzzo, in provincia di Teramo. Nel complesso, le fiamme gialle hanno ricostruito l'intera filiera produttiva e sequestrato circa 13.000 piante di canapa e infiorescenze già essiccate e pronte per lo smercio, per un peso di circa 14 tonnellate e mezzo. Le operazioni, coordinate dalle procure di Ancona e Teramo, hanno portato alla denuncia di due imprenditori agricoli dell'Anconetano e del gestore del vivaio del Teramano per produzione illecita di sostanze stupefacenti. Grazie alla collaborazione del personale del Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica per le Marche Labruzzo della Polizia di Stato, le indagini hanno permesso di accertare la presenza nel prodotto di un principio attivo anche del 20%, e cioè 100 volte superiore al limite consentito per coltivare la canapa light, dal quantitativo sequestrato di sostanze essiccate e lavorate sarebbe stato possibile ricavare infiorescenze e foglie essiccate corrispondenti a circa 54.000 dosi per un profitto di circa 1 milione e mezzo di euro. Dopo appostamenti e prelustrazioni, i finanzieri di Senigallia hanno individuato l'esteso appezzamento di terreno coltivato da un'azienda agricola formalmente operante nel settore della coltivazione di prodotti agricoli in genere. C'erano anche gli attrezzi per coltivare lo stupefacente, cisterne d'acqua, un impianto di irrigazione canalizzato per ogni filare e fertilizzanti. Un capannone nelle immediate vicinanze del terreno era allestito per essiccare il prodotto con motori elettrici e ventilatori. I militari hanno sequestrato ed estirpato le piante e poi sono risalite al vivaio nel Terramano, sequestrate piante in vari stadi di coltivazione cannabis essiccata pronta per lo smercio. Il GIP di Teramo ha convalidato la misura, ha disposto il sequestro preventivo e la distruzione della sostanza. Grazie. Grazie.